Ciao, ho iniziato innanzitutto questo Master in Web e Social Media Marketing perché ero già appassionato appunto di tutte quelle che erano le dinamiche all'interno dei social e attraverso il mio lavoro, perché sono Product Manager in una società di ricambi di auto e facendo tante analisi a livello di mercato, ho voluto traslare queste skills anche nel mondo del digital. Tutto questo mi sta dando appunto l'opportunità di vedere le dinamiche a 360 gradi in questo mondo, non solo social ma anche web e grazie al Digital Coach ho già avuto dei contatti con delle società e sto iniziando a curare appunto sia la parte del content marketing che il DCO di queste società. Ora inizierò a breve anche la parte della job experience che comunque mi farà vedere dei punti che al momento non ho potuto approfondire e la cosa che comunque ho valuto abbastanza importante che comunque il Master nonostante sia fatto in orari serali ti dà la possibilità di organizzarti se sei di Milano puoi seguire direttamente in aula e fare domande direttamente in sede oppure se sei di fuori puoi connetterti online o vedere addirittura le lezioni in demand quindi penso che questa cosa sia non solo smart ma più che altro ti dà la possibilità di fare un planning di tutte quelle che sono le tue attività. Come primo anticipato appunto grazie al Digital Coach sto seguendo un progetto in piena autonomia nella gestione e nella creazione di un sito web che appunto ho potuto implementare anche conoscendo attraverso le skills di un altro partecipante, l'Essio Fusè e quindi ora portiamo avanti la creazione di questo sito con tutta la parte di digitalizzazione della società stessa. Grazie a tutti.